San Giovanni evangelista. Giovanni fu amico di Gesù, il più giovane degli apostoli, autore del quarto Vangelo e dell'Apocalisse. Era in origine un povero pescatore, fratello di San Giacomo, originario di Betania, come gli altri due pescatori, Pietro e Andrea. Fece parte di quel gruppo privilegiato di apostoli che presenziano alla risurrezione della figlia di Gairo. Morì di vecchiaia ad Efeso tra il 98 e il 117, al ritorno dall'isola greca di Patmos, dove era stato esiliato. È patrono della Spagna e per la sua amicizia con Gesù è patrono delle amicizie buone. Protettore dei teologi, dei templari, degli artisti e dei librai, si invoca contro ustioni e avvelenamenti.